Ogni notte Leandro attraverso a nuoto l'esponto ed Ero, sacerdotessa di Afrodite, accendeva una fiaccola per indicargli la strada. Ci furono giorni di burrasca e Leandro si gettò nel mare in tempesta ma non giunse vivo sull'altra sponda. Quando Ero vide il corpo inerte gettato dal mare sulla spiaggia si lanciò da una torre fra le onde per unirsi all'amato. Gli amanti sono mostrati in un tragico abbraccio finale mentre le loro vite sono portate via dalla corrente. I toni sensuali della pelle dorata contrastano con lo sfondo cupo del mare e del cielo in tempesta e il drappo scuro e i capelli neri di Ero sembrano fondersi con le ombre. Etty rappresentava spesso scene mitologiche e allegoriche che gli davano occasione di raffigurare il nudo elemento costante di tutta la sua carriera. I suoi dipinti che richiamano le pose sensuali e la ricchezza cromatica di Tiziano e Rubens furono molto ammirati da Eugène Delacroix.